Va bene, buongiorno, oggi riprendiamo la ragionamento sui grafi iniziando a trattare due argomenti che sono le visite e i cammini minimi, ossia i modi di spostarsi su un grafo una volta che l'abbiamo costruito. La volta scorsa ricordate che abbiamo costruito insieme un esercizio un grafo della metropolitana di Parigi, adesso abbiamo un grafo con i suoi vertici, con i suoi archi, però non sappiamo bene cosa farcene, nel senso che una volta che ce l'abbiamo rimane lì come struttura dati, oggi impariamo chiaramente a visitarlo, attraversarlo. La prima cosa che noi possiamo fare sulla struttura dati a grafo è ragionare sui nodi vicini, noi quando abbiamo dato la definizione sul grafo abbiamo detto che si poteva, dato un vertice, trovare i cosiddetti archi adiacenti oppure vertici adiacenti. Come si fa a usare, a esplorare questa informazione sulla libreria jgraph.t? Quindi prima di passare alle cose più complicate andiamo a vedere le cose semplici. Qui nel model avevamo creato il grafo, con un certo numero di vertici e un certo numero di archi. Una volta che io il grafo e avessi un vertice, come faccio a trovare gli archi adiacenti. Allora, per questo ci sono dei metodi, ad esempio, li insegniamo solo qua così non li dimentichiamo, sul grafo, li avevamo già visti prima velocemente nella libreria, però adesso che abbiamo costruito il grafo li capiamo meglio, get, ad esempio, c'è un incoming edges of di un certo vertice, un outgoing edges of, che è indicato qua, che rappresenta gli archi entranti e gli archi uscenti di un determinato vertice. Oppure, visto che qui siamo in un grafo che non è orientato, non c'è differenziazione tra archi entranti e archi sufficienti, e quindi c'è un metodo che li unisce entrambi, che si chiama edges of. Quindi, se io ho un vertice, quindi diciamo, ad un certo punto possiamo avere un vertice che, per il nostro caso, nel nostro grafo è un oggetto tipo fermata, e voglio da questo oggetto fermare, chiaramente questo oggetto fermato lo dovrò probabilmente leggere dal controller, leggere dall'utente, scegliere un'utendina, questa espressione edges of di F mi dà un elenco, vedete cosa mi dà come tipo di dato, una set di default edge, scritto qua, set di default edge. Default edge perché il mio arco l'ho costruito con di default edge come parametro generico, e un set mi dà l'insieme di questi vertici, di questi archi, scusate. Quindi, dato che, insomma, una generica fermata, potrebbe essere, insomma, questa, mi dà l'arco che la collega con una, due e le tre stazioni adiacenti. l'arco, però da lì non riesco a trovare direttamente l'altra fermata, no? Quindi, se volessi trovare l'altra fermata, dovrei fare che cosa? Prendermi questo set di default edge, chiamiamolo archi, e navigare questo set, ok? Per ciascun edge, chiamiamolo E, di questo set, cosa devo fare? Devo andare a trovare la fermata che sta dall'altra parte dell'arco. La fermata che sta dall'altra parte dell'arco la trovo come? E, non è, io ho l'arco che collega, diciamo, abbiamo detto, questa fermata, la furch, con quella brochant, ok? Questo è l'arco, supponiamo che sia il primo arco che mi esce fuori in questa, in questa iterazione. Il problema è, come faccio a estrarre le proprietà di un arco? E, l'arco E ha una proprietà, ha un metodo, dunque, get, Adesso qui mi dà purtroppo degli errori, ma, ehm, fermata, chiamolo F1, uguale E punto get, ah no scusate, eh, this punto graph, punto get, edge source, dove è andato? Mi sono perso il get source dell'arco, scusatemi, andiamo a riprendere da, la libreria jgraph.t, ok, e nella javadoc, ok, nel metodo del grafo, c'è, eccolo qua, i metodi che stavo cercando, get edge target, e get edge source, che sono, mi stavo confondendo perché pensavo fossero metodi dell'arco, invece sono metodi del grafo. Quindi sono dei metodi che mi dicono, dato un arco, qual è la sorgente, qual è la destinazione di quell'arco. Quindi tornando in Eclipse, significa che per trovare la fermata collegata a ciascuno degli archi, dovrei fare, e grafo, this punto grafo, punto get edge source, rispetto, di quest'arco E, oppure, eh, oppure, il target, chiamiamolo F2, dato un arco, che io ho estratto partendo da un vertice, ho estratto un arco partendo da un vertice, questo arco collega il mio vertice F, con un altro vertice. In un grafo orientato, io saprei se sto, eh, navigando l'arco uscente, e quindi la sorgente dell'arco è il mio nodo F, e la destinazione è il vertice che sta dall'altra parte. In un grafo non orientato, dipende da com'è stato memorizzato il grafo, per questo volevo guardarlo con voi, prima di fare cose più complesse. Quindi, io l'arco potrebbe essere stato memorizzato, nella mia mappa, da la fourche a brochant, allora di fatto, di quell'arco, il source diventa la fourche, e il target diventa brochant, oppure può essere memorizzato al contrario, dove il source è brochant, e la destinazione, il target è la fourche. Questo non lo posso sapere, dipende come ho creato io gli archi nel grafo. Chiaro che in un grafo non orientato, c'è solo uno dei due, c'è assolutamente uno dei due. Quindi, quando io da un vertice, trovo tutti gli archi adiacenti, posso interrogare ciascuno di questi archi, andando a chiedere per ciascuno, qual è la sua edge, qual è la sua source, qual è il suo punto di partenza, qual è il suo punto di arrivo, e ciò che succederà, è che sicuramente, uno dei due, o f1 o f2, coincide con f. coincide con il mio f. L'altro dei due, quello che è diverso da f, sarà effettivamente il vertice che mi interessa. Ok? Quindi dovrei fare qualcosa del tipo, se f1 equals di f, allora, cosa dirò? Dirò che il grafo f2 è quello che mi serve. Altrimenti, sarà f1 quello che mi serve. Quindi, questo per l'operazione più semplice, in un grafo, dato un vertice, dimmi quali sono i vertici adesso adiacenti, nel grafo non orientato, in un grafo orientato è un pochino più facile, perché non vado a interrogare gli edges, ma direttamente gli outgoing edges, e allora so che se sono outgoing, la source sono io e il target sono gli altri, oppure gli incoming edges, in cui io sono già sicuro che io sono il target, e gli altri sono la source. Però nel grafo non orientato, che spesso è più usato, bisogna fare questo trucchetto. Questo trucchetto, che come spesso accade nella libreria JgraphT, si può bypassare, usando uno dei metodi di utilità, che è la classe statica graphs, ci mette a disposizione. Ad esempio, tutto questo giochino qui, si può tranquillamente fare a meno, usando un metodo statico, che si chiama getOppositeVertex, a cui chiedo, specifico il grafo, ricordiamoci che la classe graphs, con la S, ha solo metodi statici, quindi ha bisogno di conoscere, come parametro, qual è il grafo su cui operare, il secondo è l'arco, e il terzo è il vertice di partenza. quindi, prende un grafo, prende un vertice, prende uno degli archi, che è associato a questo vertice, ovviamente, questo arco E, deve essere uno degli archi, che incide su F, e mi da, ma mi restituisce già, l'F1 o l'F2, che mi serviva, cioè il vertice opposto. ok? Quindi in realtà, il motivo anche per cui, diciamo così, tennavo a scrivere queste prime righe, è perché nella pratica, non le scriviamo mai, perché usiamo, direttamente, questo metodo di utilità, che poi, se andate a vedere, il sorgente dentro, fa esattamente questa cosa, ma è un pochino più covodo, e soprattutto più leggibile, e non rischiamo di fare errori. In realtà, tutta questa operazione, a sua volta, potrebbe essere, diciamo così, semplificata, usando anche qua, un altro metodo di graphs, che si chiama, get, aspetta, vertice, c'era un metodo, che mi dava direttamente, eccolo qua, successor list of, quindi bisogna un po', impratichirsi, con questa libreria, andare un po' a vedere, i metodi che ci servono di più, successor list of, che cosa fa? Andiamo a vedere la definizione, ritorna una lista di vertici, che sono i successori diretti, di un vertice specificato, questo metodo usa gli outgoing edges, per attraversare il grafo, vabbè, questo vale sia per i grafi orientati, che per i grafi non orientati, ok? C'è una lista di successori, e la lista dei predecessori, e questo che cosa mi restituisce? Andiamo ancora a vedere, una lista di, object, vabbè, in questo caso, sono una lista di, di vertici, ok? lui scrive oggi, perché essendo un metodo statico, lui non sa come abbiamo dichiarato il grafo, quindi in questo caso, molto più semplicemente, otterrei la lista, di fermate, che sono le fermate di accenti, direttamente prendendo, il grafo, dis.grafo, e specificandogli qual è il vertice di partenza, questo metodo fa esattamente il lavoro, che cercavamo di fare prima, col ciclo for, cioè gli do, fermata, gli do un grafo, gli do un vertice di partenza, e lui mi dà, non una lista di archi, perché era scomodo il metodo edges of, oppure outgoing edges of, perché mi, dato un vertice, mi restituisce degli archi, e poi dall'arco, e io molto probabilmente, mi serve sapere qual è il vertice, a cui arriva questo arco, e devo fare questo giochino, o con l'if, oppure con l'opposite vertex, tutto questo lavoro, lo fa già, questo metodo success of list, che dato un vertice, f una fermata, mi dà esattamente, le fermate adiacenti, quindi una lista, già direttamente di vertici, in questo caso, con questo metodo, non devo più pensare agli archi, passo da vertice a vertice, direttamente, e non mi interessano più, non devo più fare questo passaggio intermedio, dal vertice all'arco, dall'arco al vertice, che in realtà è la natura del grafo, cioè, gli vertici sono adiacenti agli archi, e gli archi sono adiacenti ai vertici, ok? Quindi, nella pratica, quello che facciamo, quando io ho un vertice, e devo trovare, i vertici adesso direttamente adiacenti, ok? lo posso fare, direttamente, ricordandomi di questo metodo, successo list of, senza andare a impazzire, quindi, rimetto un altro commento intorno a tutto questo, senza impazzire, con questi altri, ecco, cicli, eccetera, che sono chiaramente, l'uso di base della libreria, ma, per fortuna, per operazioni più semplici, ci sono già dei metodi, diciamo così, preconfezionati, funziona anche con un grafo orientato, sì, devo specificare, se il grafo fosse orientato, io avrei il metodo, successo list, per indicare, gli archi uscenti, quindi, i vertici che sono successivi, a quello di partenza, oppure, c'è anche il metodo, grafs, punto, predecessor list, grafs, metodo hs, punto, predecessor list of, che fa la stessa cosa, chiaramente, con i vertici, con gli archi entranti, quindi, va a cercare i vertici precedenti, a quello dato, nel grafo non orientato, sì, Giorgia, i due metodi sono, sono equivalenti, quindi, scrive successor, scrive predecessor, è equivalente, vediamo se la documentazione, lo dice meglio, nel senso che, mi metto nei vostri panni, se aveste il dubbio, andate a cercare, dentro jgraph.t, la classe, grafs, con la s, ok, e qui, ci dice, ad esempio, success, ci ricordiamo, che c'è il metodo, success, 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 list of, quindi, non dice nulla di particolare, l'argomentazione ben fatta, ti direbbe, nel caso di un grafo, orientato, succede una certa, un grafo non orientato, succede una certa cosa, in realtà, quello che ti dice, è che ti dice, guarda che hai uso, usa internamente, il metodo, outgoing edges, quindi, se io vado a vedere, clicco su outgoing edges, mi dice lui, me lo dice qua, ritorna un insieme, di tutti gli archi, quello di base, nel caso, dei grafi, non orientati, questo metodo, ritorna tutti gli archi, che toccano il vertice, quindi, alcuni degli archi, hanno il source, il target invertiti, quindi, nel caso di un grafo, non orientato, che noi parliamo di outgoing, o incoming, o che noi parliamo di successor, o predecessor, in realtà, sono sempre gli stessi archi, ok, i due metodi sono intercambiabili, mi danno lo stesso risultato, nel caso di un grafo orientato, chiaramente, i due insiemi sono, sono diversi, ok, quindi, nella documentazione C, si tratta di andare, abituarsi ad andare a cercare l'informazione, che poi, a volte, purtroppo, è nascosta in una parolina, in una nota, ma, di solito, l'informazione c'è, ok, questo, questa premessa, diciamo così, mi serve per, diciamo così, sottolineare, che questa operazione, ci permette di passare, da un vertice, a quelli, adesso, direttamente adiacenti, quindi, mi fa fare, un passo, sulla mappa, ma uno solo, ok, quindi, se io volessi sapere, da questa, da questa stazione, dove posso arrivare, se posso arrivare fino a questa, che è, tre stazioni più in là, e questa operazione, non mi permette, di farlo ancora, devo, combinare, questa operazione, di singoli passi, in un modo, da poter trovare, anche, dei vertici, che sono, più distanti, del primo, ok, quindi, quindi, qui, vediamo, proprio, tocchiamo concretamente, la differenza, tra quello che è, un vertice adiacente, cioè, direttamente collegato, in questo caso, sarebbero solamente, questi tre, e un vertice, raggiungibile, come quello di Garibaldi, che è raggiungibile, dalla Fouche, ma, lo è, attraverso un percorso, di, uno, due, tre archi, ok, i metodi, predecessore, successore, trattano solamente, i vertici, direttamente adiacenti, per trovare i vertici raggiungibili, abbiamo bisogno di metodi, che in qualche modo, ripetano l'operazione, di visita, del vertice adiacente, più volte, fino a trovare, diciamo così, tutti gli altri vertici, e questi prendono, nei grafi, il nome di visite, visite sui grafi, quindi, l'operazione di base, dato un vertice, quali sono i vertici, ad esso adiacenti, a un passo, se voglio invece, i vertici, che sono raggiungibili, anche con più di un passo, cambio la terminologia, e parlo di visita del grafo, e non più di adiacenza, e cos'è una visita? La visita, per rifinizione, è un'esplorazione, cosiddetta, sistematica del grafo, ovviamente, devo avere un metodo, per poter trovare i vertici, perché noi, da uno, abbiamo trovato i travicini, e da questi travicini, a ciascuno di essi, avrà degli altri adiacenti, e ciascuno di questi, ha ancora degli altri, e poi magari, a volte, ci sono dei cicli, quindi potrei tornare indietro, o bisogno di un metodo, diciamo così, ordinato, per riuscire a esplorare, l'adiacente, dell'adiacente, dell'adiacente, per andare a vedere, quali sono tutti, quelli raggiungibili, quindi noi partiamo, da un vertice sorgente, e cerchiamo di raggiungere, tutti i vertici, che sono raggiungibili, e questo metodo sistematico, di esplorazione, in realtà ne esistono diversi, metodi di esplorazione, i due principali, che probabilmente avete già visto, nel corso di ricerca operativa, immagino, ma li riprendiamo, per vedere come si mappano, soprattutto sulla libreria, sono i metodi di visita in ampiezza, e il metodo di visita in profondità, poi quando prenderemo, la libreria Geograti, vedremo che in realtà, non ci sono due metodi di visita, ma ce ne sono 20 o più, ciascuno con le sue caratteristiche, ma alla fine, il risultato totale, è sempre lo stesso, partendo da un vertice sorgente, qua, da un vertice sorgente, trovo, tutti i vertici, raggiungibili da questo, dove raggiungibili, ricordiamoci, significa che ho un cammino, che può essere di 1, 2, 3, oppure, n passi, quindi un raggiungibile, con un cammino, di qualunque lunghezza, purché il cammino, sia fatto tutto da archi, del grafo stesso, il più semplice da capire, è la visita in ampiezza, non è più semplice da implementare, ma è più semplice da capire, perché noi abbiamo già visto, che avevamo un vertice, una stazione, e questa stazione, questa fermata, era collegata, ad altre tre fermate, quindi, se la nostra stazione, che abbiamo considerato, nell'esempio, la chiamiamo sorgente, diventa la nostra sorgente, della visita, noi abbiamo, tre, fermate, che sono, adiacenti, direttamente adiacenti, alla sorgente, allora, possiamo fibbiare, un numerino, a queste tre, chiamiamo numero 1, per dire, che sono quelle, direttamente collegate, alla sorgente, e quindi, costituiscono, il cosiddetto insieme, di vertici, di livello 1, di distanza 1, rispetto alla sorgente, la sorgente, la possiamo anche, identificare, come, un livello 0, di partenza, allora, a questo punto, cosa fa la visita, in piezza, prende, tutti i vertici, di livello 1, e va a vedere, quali sono, i loro adiacenti, supponiamo, siano questi, e i vertici, adiacenti, al livello 1, che non siano, già stati, etichettati, li chiamiamo, vertici del livello 2, vedete, qui ho aggiunto, un arco, tra questo vertice, e quell'altro, che c'era sotto, che aveva già, l'etichetta di livello 1, quindi, lascio l'1, non faccio nulla, così, come in realtà, a questo vertice, a tutti questi, tre vertici 1, uno degli adiacenti, era la sorgente, S, che però, aveva già un livello 0, e quindi, lo lascio stare, e così via, poi, prendo, tutti i vertici, del livello 2, e vado a trovare, i loro adiacenti, quindi, ci sarà magari un arco qui, che non mi aggiunge nulla, ci sarà un arco qui, che mi aggiunge un vertice, di livello 3, magari, questo stesso vertice, è raggiungibile, anche da questo nodo, vabbè, ma comunque, lo prendo una volta sola, è inutile che prenda, dei vertici duplicati, questo, questo mi porta a un altro vertice, di livello 3, e così via, e quindi, ogni volta che vado avanti, prendo, i vertici, di un certo livello, calcolo, tutti gli adiacenti, a tutti questi vertici, di questo determinato livello, L, e, li inserisco, in un insieme, in un gruppo, di vertici, che chiamerò, vertici del livello, L più 1, qui, sulla sinistra, nella slide, c'è lo pseudocodice, che racconta, questa operazione, io parto, da un livello 0, un insieme di vertici, S sta per set, un insieme di vertici, che chiamo di livello 0, che contengono in inizio, solamente, il vertice sorgente, e poi, ogni volta, creo, un nuovo insieme, di livello, L più 1, ottenuto come? Cercando tutti i vertici, adiacenti, quindi, direttamente collegati, a almeno un vertice, del livello L, quindi, il livello L più 1, è fatto di tutti i vertici, che sono adiacenti, ad almeno un vertice, del livello L, purché, non siano ancora, stati considerati, quindi non siano ancora, etichettati, nessuno dei livelli precedenti, e questo ciclo, questa operazione, come diciamo, è una operazione sistematica, cioè, ripetono sempre la stessa operazione, dal livello L, al livello L più 1, eccetera, eccetera, ogni volta, ha un insieme di vertici, e costruisce un insieme nuovo di vertici, quindi, avrà una serie di salamotti, che si espandono, e tutto questo si ferma, quando, quando a un certo punto, l'insieme di vertici, che ho appena costruito, è vuoto, cioè, vuol dire, che non ci sono più nuovi vertici, che siano adiacenti, ai vertici esistenti, e quindi, chiaramente, l'interazione si ferma, e se il grafo è un grafo finito, ok, non di dimensione infinita, ma di dimensione finita, di sicuro, prima o poi, mi fermo, ok, perché ad ogni iterazione, visto che mi fermo, quando è un insieme a vuoto, ad ogni iterazione, aggiungo almeno, almeno, un vertice, se non aggiungo più nessun vertice, mi fermo, se ne aggiungo almeno uno, vorrà dire, che il numero massimo di iterazioni, di questo ciclo, sarà pari al numero di vertici totali, quindi, alla fine, sono sicuro di fermarmi, quindi, non rischiamo di andare avanti all'infinito, sono sicuro di fermarmi, attenzione, perché, ogni vertice viene inserito, al massimo una volta, all'interno di questi insiemi, perché dopo che l'ho inserito, nell'insieme di livello 2, non inserirò mai, in un insieme di livello 3, 4, 5, superiore, ecco, questo devo fare attenzione, altrimenti rischio di, di girare all'infinito, qui nelle slide, abbiamo un altro esempio, grafico, disegnato un po' meglio, ma il concetto è lo stesso, partiamo da una sorgente, questo è il livello 0, i vertici adiacenti alla sorgente, esclusa la sorgente stessa, sono i vertici di livello 1, quindi in questo caso è R, W, livello 2, costituito dai vertici che sono adiacenti a quelli di livello 1, quindi qui avremmo messo un 1, questi sono i vertici di livello 2, perché li ho scoperti, vedete, attraverso un arco, che arrivava da un vertice di livello 1, a un nuovo vertice, che finora non avevo ancora ricompreso nessuno dei livelli, e poi l'ultimo livello è il livello 3, che comprende gli ultimi due, qui abbiamo i nodi di livello 2, questo qui in basso sinistra, il nodo V, non ha più nessuna diacente, nuovo, non ho ancora scoperto, quindi non mi da nulla di nuovo, x mi da y, che è di livello 3, e t mi da u, che è anch'esso di livello 3, ok? E qui mi fermo, perché quali sono l'S4, l'insieme di livello 4, quale sarebbe? Sarebbe l'insieme di tutti i vertici, adiacenti a questi qua di livello 3, che non siano già stati considerati in precedenza, adiacenti a u, c'è solamente t, però è già stato considerato, adiacente a y, c'è solamente x, che è già stato considerato, e quindi mi fermo. L'insieme dei vertici raggiungibili da S, in questo caso, è l'intero grafo, e abbiamo dimostrato che questo è un grafo connesso. Non solo, abbiamo anche scoperto, quello che probabilmente è il percorso più breve, per arrivare da S a un qualunque altro vertice. Il fatto che abbiamo esaurito il grafo, in tre soli livelli, significa che per partire da S, ed arrivare a qualunque altro vertice, mi servirà un percorso lungo al massimo 3. E quindi 3, o meglio il livello di un vertice, corrisponde anche alla lunghezza minima del percorso che connette la radice al vertice stesso. L'arghezza minima, diciamo così, considerando ogni arco della stessa lunghezza, ma con un grafo quindi non pesato. Poi vedremo più avanti, oggi più tardi, cosa succede quando il grafo invece è pesato. Quindi, il risultato cos'è? Il risultato è che abbiamo preso un grafo, preso un vertice di partenza, trovato tutti i vertici adiacenti, e di fatto abbiamo anche, in qualche modo, capito, non solo quali vertici ho trovato, ma anche come li ho trovati. Ogni nuovo vertice, quando dico, ah, tu sei un vertice di livello 3, sei un vertice di livello 7, nel momento in cui lo aggiungo a livello 7, lo sto aggiungendo, perché esso è adiacente a un ben preciso vertice del livello precedente. Quindi quell'arco lì è importante, perché è l'arco che mi permette di scoprire un nuovo vertice, di un nuovo livello, a partire da un vertice di un livello che già avevo. Se io metto da parte tutti questi archi, attraverso i quali ho scoperto dei nuovi vertici, e ignoro invece gli archi che non mi hanno fatto scoprire nuovi vertici, quello che ottengo è un albero, che prende il nome di albero di visita del grafo. In particolare, l'albero di visita in ampiezza. L'albero che si ottiene considerando tutti gli archi che mi servono per scoprire nuovi nodi attraverso il meccanismo della visita in ampiezza. Questo albero ovviamente ha come radice, può avere come radice naturale il vertice sorgente, tutti i nodi raggiungibili sono i vertici, e gli archi sono solamente un sottoinsieme degli archi di partenza che sono quelli che sono stati usati per scoprire nuovi vertici. Quindi nel nostro esempio io ho tolto tutti gli altri archi e ho lasciato solamente gli archi ripassati in rosso che abbiamo effettivamente usato per scoprire dei nuovi vertici. un albero un albero vuol dire che è un sottografo connesso quindi se non guardiamo le linee blu ma solamente quelle rosse diciamo così più spesse abbiamo un grafo che è connesso connesso ovviamente perché contiene esattamente i vertici raggiungibili e non è ciclico non è ciclico perché quindi è un albero non è ciclico perché io non ho mai aggiunto non ho mai usato un arco per tornare indietro verso un vertice che già avessi quindi di sicuro se ho usato un arco è sempre stato per andare verso un vertice nuovo quindi non sto mai creando dei percorsi che si chiudono su un vertice esistente quindi è un bel grafo connesso a ciclico e quindi è un albero l'albero di visita in ampiezza è un albero che viene indotto dall'algoritmo di visita in ampiezza io faccio la visita per trovare i vertici raggiungibili ma gratis in qualche modo mi ritrovo anche quest'albero di visita perché ci do importanza? perché quest'albero di visita in qualche modo riassume i percorsi minimi se io seguo solo gli archi dell'albero di visita ricordiamoci che sugli alberi gli alberi hanno una proprietà interessante che sono grafi connessi ma poiché sono aciclici datano a qualunque coppie di vertici il cammino che li collega è unico è uno solo quindi l'albero di fatto riassume tutti i cammini dalla sorgente il vertice 0 a tutti gli altri vertici quindi se io voglio sapere come si fa a raggiungere il vertice U e ho fatto la visita in ampiezza mi basta semplicemente andare a trovare l'unico cammino che esiste che collega S con U e molto spesso mi conviene lo vedremo dal punto di vista del codice si ragiona al contrario parto da U e mi chiedo ma U da chi l'ho scoperto? ah l'ho scoperto da T ok e T da chi l'ho scoperto? l'ho scoperto da W e W da chi l'ho scoperto? l'ho scoperto da S quindi di fatto se noi vediamo questo albero di visita ricordandoci la direzione di visita sapete che l'albero di per sé è una struttura dati che non è orientata ma ha un orientamento che è naturale indotto dalla scelta della radice e noi come radice abbiamo scelto S quindi se noi immaginiamo o vediamo o rappresentiamo questi archi in modo orientato significa semplicemente partire dal vertice destinazione e risalire all'indietro l'insieme di archi perché risalire all'indietro? perché io sono sicuro che risalendo all'indietro dato un vertice di predecessore ce ne sarà esattamente uno è un albero quindi ogni vertice ogni nodo ha esattamente un padre ma può avere più figli allora se parto da S ho due figli in uscita e non so quale prendere poi arrivo su Udoppio ho due figli in uscita e non so quale prendere e quindi avrei un pochino di difficoltà a dire ma qual è la strada che da S porta a U mentre invece non ho nessuna difficoltà un po' come il filo d'Arianna ci sono arrivato a U una volta e mi sono scritto da che parte passare solo che questo filo è ramificato ma dal fondo da U è facilissimo tornare a S perché c'è solo una scelta unica risalendo all'indietro gli archi dell'albero di visita quindi questa operazione molto semplice di visita in ampiezza ci dà i vertici raggiungibili l'albero di visita ossia i cammini minimi cammini di lunghezza minima dal vertice di partenza a tutti i vertici raggiungibili di quella componente connessa poi vediamo ovviamente in Java come fare questa cosa questa idea che l'albero di visita in ampiezza mi dà i cammini minimi è valida ma è valida solamente chiaramente se il grafo è non pesato non pesato perché consideriamo che tutti gli archi abbiano peso unitario o comunque peso uguale ok allora in questo caso la lunghezza minima di un percorso che sarebbe la somma dei pesi degli archi che attraverso coincide con il numero di archi che attraverso se invece un grafo fosse un grafo pesato non è più vero che il cammino trovato dalla visita in ampiezza è quello di peso minimo perché chiaramente dipenderà dal numeretto reale che rappresenta il peso di ciascun vertice ecco questa è la visita in ampiezza la più semplice da capire va avanti per iterazioni successive e per livelli successivi la visita in profondità invece adotta una logica completamente diversa nella visita in ampiezza io non mi allontano mai troppo dalla sorgente se posso e quindi prima di considerare un vertice di livello 2 cioè gli adiacenti di un vertice di livello 2 devo aver considerato tutti gli adiacenti di tutti i vertici di livello 1 cioè non mi sposto mai sul 2 finché non ho finito di esplorare l'1 quindi vado un po' a strati concentrici in un certo senso l'albero di visita in profondità invece usa l'approccio opposto mi sposto su un vertice quindi sono su un vertice di partenza mi sposto su un vertice questo la sorgente avrà tanti altri adiacenti ma io quando mi sono spostato su un primo vertice prima considero gli adiacenti di quest'ultimo prima di andare a considerare gli adiacenti della sorgente e di questi adiacenti di quest'ultimo ne prendo uno e vado a considerare i suoi adiacenti prima di considerare gli adiacenti di questo signor 1 quindi chiamiamolo 2 il 2 avrà degli adiacenti ce n'è uno che si chiama 3 e quindi considererò prima gli adiacenti di 3 quindi lascio in sospeso molto lavoro sono in un vertice vado su quello dopo da quello dopo vado su quello dopo ancora da quello dopo vado su quello dopo ancora e quindi vado avanti così come si dice appunto in profondità vado sempre più avanti mi allontano sempre di più dalla sorgente ogni passo che faccio lascio in sospeso molte altre alternative che avrei potuto fare molte altre strade alternative che avrei potuto prendere ovviamente queste strade alternative dovrò poi andare a considerarle per verificare se attraverso queste strade alternative si raggiungono altri vertici oppure magari si raggiungono vertici che magari questa strada portava a questo vertice qui in basso che io in realtà ho scoperto come vertice 4 partendo dal 3 e non partendo dall'1 visto che il grafo può essere ciclico è possibile che un certo vertice sia raggiungibile chiaramente da più strade io l'importante ai fini della raggiungibilità è importante trovare almeno una strada ok non necessariamente quella minima allora questo schema qua in cui mi sposto su un vertice e poi da lì mi sposto sui figli e poi tornerò indietro a vedere altre alternative voi capite che ci ricorda un pochino la ricorsione quindi la visita in profondità è un tipo di visita che molto naturalmente si presta ad essere implementata in modo ricorsivo immaginate la generica funzione ricorsiva che è un ciclo per visitare i suoi figli e in ogni figlio faccio la chiamata ricorsiva per visitare lui e quindi prima esploro i suoi figli poi torno indietro vado a vedere ah ma magari ci sono dei fratelli che sono ancora da esplorare quindi dal punto di vista del codice è molto più semplice molto più compatta rispetto a questo è il proprio pseudocodice della visita in profondità come tutte le procedure ricorsive all'inizio sembra che non faccia niente in realtà fa tutto se io voglio fare una visita in profondità a partire da un certo vertice v semplicemente devo prendere v e chiedermi quali sono i suoi adiacenti w ok prendiamo questi adiacenti uno per volta e chiamiamo questo visit vuol dire facci qualcosa stampalo salvalo da qualche parte insomma fai l'operazione che devi fare sull'adiacente e poi chiamata ricorsiva a su su che cosa sul vertice adiacente w ok quindi parto dal vertice sorgente la prima volta v sarà la sorgente vado a vedere w adiacente alla sorgente stampo il primo e poi direttamente vado a considerare di nuovo chiamata ricorsiva torno qua a chiamare gli adiacenti a cercare gli adiacenti di questo primo dei w dei primo degli adiacenti alla sorgente e quindi andrò avanti sempre di più ovviamente mi devo sempre ricordare di quali sono i vertici che ho già visto perché questi adiacenti devono essere visitati e considerati solamente se non sono stati ancora visti quindi da qualche parte dovrò avere un insieme un set una vista che si ricorda quali sono i vertici che sono già stati visitati e evito di tornarci perché se no di nuovo qua rischio di avere una ricorsione infinita io devo essere sicuro di fare una chiamata ricorsiva su w una volta sola su ciascun w su ciascun vertice al massimo una volta per cui se l'ho già chiamato una volta vuol dire che è già stato visitato in passato e quindi non lo chiamo più non lo considero più ok quindi il codice vedete è molto più semplice da scrivere veloce ma forse anche un po' più complicato da capire ovviamente perché si basa su una procedura ricorsiva e alla fine il risultato è lo stesso nel senso che questo grafo che è un grafo connesso mi darà esattamente partendo da stesso S lo stesso insieme di vertici raggiungibili in un ordine in un ordine diverso quindi da S trovo magari R poi da R visto che faccio una visita in profondità prima di considerare gli altri adiacenti a S considererò gli adiacenti di R che ho appena scoperto quindi ho scoperto R bene andiamo subito a vedere i suoi adiacenti che è V poi V non ha altri adiacenti e quindi torno su R e mi chiedo R aveva altri adiacenti? No allora torno indietro su S questo è il classico meccanismo ricorsivo allora a questo punto S ha un altro adiacente che è W e vado a vedere i figli di W i figli di W sono T e X consideriamone uno T prima di considerare X vado a considerare gli adiacenti a sua volta a T quindi parto da T e vedo vedere A, T, A come adiacente U poi prima di considerare gli altri adiacenti di T devo considerare gli adiacenti di U e mi fa scoprire Y poi prima di considerare gli altri adiacenti di U devo considerare gli adiacenti di Y perché sto scendendo ricorsivamente gli adiacenti di Y sono X e ho trovato X adesso vado a cercare gli adiacenti di X gli adiacenti di X sono W e T ma sono già stati colorati già trovati e quindi non faccio nulla questi due archi non mi servono perché non mi permettono di scoprire nulla di nuovo allora tornerò indietro su Y e mi chiedo ci sono altri adiacenti che non ho ancora esplorato no torno indietro su e qui c'è tutto ritorno indietro le chiamate ricorsive uno non ha altri adiacenti T T avrebbe degli altri adiacenti cioè X ma è già stato scoperto facendo il giro lungo passando da dietro pazienza l'importante era scoprirlo ok torno indietro e quindi non trovo più nulla di nuovo a partire da T torno indietro su W e mi chiedo ci sono altri archi che non ho esplorato sì ci sarebbe questo ma porta un vertice che nel frattempo ho già scoperto quindi questo povero X che era portata di mano una volta che ho raggiunto W non sto dicendo che è raggiungibile da W ma sto dicendo che è raggiungibile facendo il giro lungo non importa mi avete chiesto dimmi quali sono i vertici raggiungibili io ti dico quali sono è chiaro che l'albero di visita anche qua c'è un albero di visita composto dagli archi che abbiamo usato per scoprire nuovi vertici è diverso da quello precedente qui soprattutto dove ovviamente solo dove ci sono i cicli possono esserci differenze nell'albero di visita quindi vediamo che l'albero di visita in ampiezza mi dava certi percorsi l'albero di visita in profondità mi dà dei percorsi diversi anche qua mi dà il percorso un percorso per raggiungere a partire dal sorgente un qualunque altro vertice ma come abbiamo sia intuitivamente capito che è anche visto confermato da questo esempio non è il percorso minimo perché noi sappiamo che x sarebbe raggiungibile con un percorso di lunghezza 2 zang zang ma l'albero di visita in profondità mi farà sicuramente raggiungere x ma attraverso un percorso 1,2,3,4,5 passi quindi la visita in profondità è più semplice forse un pochino più veloce mi dà anch'essa un albero di visita ma il numero di livelli la profondità della ricorsione e quindi anche il numero la lunghezza di percorsi dell'albero di visita non sono minimi sono percorsi e basta non hanno nessuna proprietà in più l'albero di visita in profondità in realtà ha altre proprietà di analisi dei grafi che però diciamo così non ci interessano questo esempio l'abbiamo fatto su un grafo non orientato ma esattamente la stessa cosa si fa su un grafo orientato ecco non cambia nulla semplicemente noi abbiamo l'operazione in cui dato un vertice cerco di scoprire i suoi adiacenti nel grafo orientato sono tutti nel grafo diretto nel grafo non orientato invece ovviamente saranno solamente quelli che sono raggiungibili seguendo la direzione dell'arco quindi non è non cambia nulla né dal punto di vista dell'algoritmo né dal punto di vista della sua implementazione ok in questo caso avevamo un grafo che non è completamente connesso perché a seconda del vertice da cui parto possono raggiungere degli insiemi diversi ecco mentre un grafo non orientato è simmetrico in termini di connettività un grafo non orientato ad esempio partendo da S trovo solamente Z, Y, X e W questo è un caso di visita in profondità lo riconosco di visita in profondità perché W che sarebbe una adiacente alla sorgente non l'ho trovato subito con un passo ma l'ho trovato con due e quest'altra parte di grafo a destra non sarebbe raggiungibile a partire da S ma è raggiungibile solamente partendo da un'eventuale seconda sorgente però sui grafi non orientati se invece fate l'operazione inversa provate a partire ad esempio da U trovate l'intero grafo quindi la nozione di grafo raggiungibile in un grafo orientato chiaramente dipende molto dalla versione di partenza questi algoritmi di visita hanno tutti una complessità lineare data dal numero di archi e più il numero di vertici ok perché ma perché ad ogni iterazione abbiamo detto sia in un caso che nell'altro aggiungiamo sempre almeno un vertice e però ad ogni iterazione dobbiamo considerare tutti gli archi adiacenti al vertice che abbiamo quindi ogni vertice lo consideriamo al massimo una volta e ogni arco lo consideriamo al massimo una volta per cui abbiamo una complessità che è data da V più E e questo V più E nel caso di un grafo che ha un'alta densità il termine dominante sarà E numero di archi che è proporzionale al quadrato dei vertici invece nel caso di grafi qui non c'è scritto lo scrivo a mano sparsi per grafi sparsi il numero di archi è dell'ordine di V c'è una parente di troppo pazienza quando un grafo sparco è un grafo in cui il grado di ciascun vertice è limitato e non cresce al crescere della dimensione del grafo e allora in questo caso questi algoritmi di visita hanno una complessità che è pressoché lineare o di V anziché o di V alla seconda quindi o lineare o quadratico a seconda della densità del grafo stesso ok come lo implementiamo questo nel nostro nel nostro jgraph-t come implementiamo questi questi algoritmi ops ho cliccato nel posto sbagliato scusate allora torniamo quindi sul nostro codice e proviamo a vedere dove si implementano slide andiamo avanti scusate come si implementano in jgraph-t ho fatto casino con le slide stamattina sono disordinato gli algoritmi di visita sono li troviamo tutti in un in un package che si chiama traverse e quindi possiamo andare a vedere la nostra documentazione il javadoc che avevamo già aperto prima qua andiamo a cercare il package tra tutti i vari package della libreria andiamo giù verso traverse ecco package traverse contiene un'interfaccia che si chiama graph-iterator e una serie di classi tra cui riconosciamo un breadth-first-iterator quindi qui lo chiamo iteratore non visita adesso tra un attimo vediamo perché e un depth-first-iterator quindi qua riconosciamo l'iterazione visita del grafo o in ampiezza o in profondità probabilmente presumibilmente anzi evidentemente usando queste due classi e poi ci sono un'altra serie di altre classi che anche qua sono metodi di visita diversi ad esempio un random walk-iterator è un metodo di visita anzi in realtà è qua perché l'altro è deprecato quello nuovo ha cambiato nome prende dato un vertice un adiacente a caso anziché prende con un certo criterio e va avanti così finché ne trova e quando ne trova più chiaramente torna indietro o cose di questo genere oppure nel caso di un grafo pesato dato un vertice a tanti adiacenti anziché prende in un ordine qualsiasi li prende partendo da quello più vicino quello che ha peso minore quindi sotto tutti siamo criteri di visita diversi che alla fine mi danno sempre lo stesso risultato mi danno sempre lo stesso insieme di vertici ma ma con criteri diversi e quindi costruiranno degli alberi di visita diversi che avranno proprietà ma magari appunto diverse in funzione di che cosa mi interessa ok noi ci fermiamo chiaramente ai due nostri principali che sono quello in ampiezza e quello in profondità e perché si chiamano iterator queste classi ma perché l'algoritmo di visita in jgraph-t è implementato sotto forma di iteratore l'iteratore è un po' come usiamo il cursore in una query SQL un po' come possiamo iterare sugli elementi di una collection un iteratore una classe che implementa l'interfaccia di iteratore essenzialmente ha due metodi uno si chiama asnext che è un booleano mi dice se c'è un elemento successivo nell'iterazione e l'altro si chiama next che invece mi fornisce mi fa avanzare di una posizione l'elemento nell'iterazione e mi restituisce come valore di ritorno un nuovo prossimo elemento il prossimo elemento di che cosa? il prossimo elemento dell'insieme di vertici raggiungibili quindi io inizializzo un iteratore specificando un vertice di partenza o casi strane anche un insieme di vertici di partenza ma fissiamoci sul caso semplice il nostro vertice di partenza s costruisco un iteratore dicendo senti itera il grafo partendo da questo vertice e poi chiamo tante volte next ad ogni chiamata di next otterrò un nuovo vertice che è il vertice via via scoperto dall'algoritmo di visita stesso e quindi di fatto quando noi coloravamo questi negli esempi coloravamo questi vertici corrispondono esattamente ai vertici che sarebbero stati ritornati restituiti dall'algoritmo di visita ogni volta che chiamo next quando l'algoritmo di visita non mi trova più nulla allora as next diventa falso e quindi io devo smettere di chiamare il metodo next altrimenti genererei un'eccezione e quindi è un ciclo while che va a verificare se as next è ancora vero allora dammi il prossimo vertice e così via ok quindi iterare un grafo significa visitare un grafo scusate quindi fare un algoritmo di visita significa costruire un iteratore del tipo che mi serve quindi in ampiezza o in profondità e far lavorare questo iteratore che ogni volta mi darà un vertice nuovo proviamo a vederlo sul nostro grafo di esempio ok allora implementiamo un nuovo metodo al model e facciamo un programmino di test che mi permetta di esplorare il grafo stesso ok allora torniamo su eclipse adesso cancelliamo questo codice che avevamo scritto solamente per prova ok quindi questa parte qua sulla fermata la teniamo commentata perché non ci serve questo era il metodo per creare il grafo e quindi creiamo un altro metodo che mi dia tutti i vertici raggiungibili a partire da un vertice dato dentro il modello quindi creiamo un altro metodo public diciamo così fermate raggiungibili fermate raggiungibili e cosa fa questo metodo cosa restituirà restituirà un elenco una lista un insieme di fermata di vertici a partire da che cosa a partire da una fermata di partenza ok fermate raggiungibili legge il grafo partendo da un vertice di partenza e mi restituisce la lista di tutti i vertici raggiungibili come faccio a ottenerla ebbè lo faccio attraverso un iteratore di visita costruirò una lista di vertici che corrisponde ai vari vertici che sono restituiti in sequenza della chiamata di next dell'iteratore di visita allora supponiamo di averlo fare inizialmente con una visita in ampiezza ok allora visita in ampiezza vorrò dire che io costruirò il mio operatore il mio iteratore con un breadthfirst first iterator costruisco un oggetto di tipo breadthfirst iterator con le stesse caratteristiche del grafo con i stessi generics del grafo quindi il vertice è la fermata e l'edge sarà il default edge chiamiamolo bfv breadthfirst visit algoritmo di visita in ampiezza breadthfirst dovrò costruire un nuovo oggetto di questa cosa qua breadthfirst iterator con che costruttore cosa vuole il costruttore andiamo a vedere sulla documentazione breadthfirst iterator come costruttore può avere solo il grafo oppure il grafo e un insieme di vertici di partenza oppure il grafo e uno specifico vertice di partenza il terzo caso è quello che ci serve noi abbiamo un vertice di partenza e vogliamo navigare il grafo a partire da quel vertice ok nel primo caso in cui non ti fornisco il vertice lui parte dal vertice che vuole che non è vabbè in un grafo non orientato se voglio sapere i vertici rilungibili potrebbe anche non interessarmi però nel nostro caso diciamo in generale come concetto di visita noi abbiamo un punto di partenza quindi usiamo la versione in cui il primo parametro è il grafo e il secondo parametro è il vertice di partenza ok questo è l'iteratore che contiene al suo interno l'algoritmo di visita adesso dobbiamo questo iteratore farlo lavorare quindi si srotola e questo iteratore ha diciamo così potenzialmente già pronti tutti i vertici ma me li deve dare uno per volta e allora dovrò semplicemente mi costruisco l'insieme di risultato come lista di fermata risultato che mi serve uguale new array list di fermate e faccio lavorare l'iteratore quindi for scusate while l'iteratore della visita in bfv in ampiezza ha un elemento successivo finché c'è qualcosa allora lo vado ad aggiungere quindi la mia fermata f semplicemente è il prossimo elemento del b del iteratore e questa fermata f la posso aggiungere al risultato finché s next è vero ci sono nuovi vertici da scoprire e questi nuovi vertici sono ottenuti chiamando ripetutamente il metodo next ogni volta che chiamo un metodo next me ne da uno nuovo e io questo nuovo lo aggiungo al risultato alla fine di tutto posso ritornare il mio risultato alla fine l'iteratore si è esaurito ha fatto tutto ciò che doveva fare e nel risultato ho proprio la lista dei vertici adiacenti ok allora proviamo a farlo con un con un piccolo main di prova noi avevamo il nostro test model che già faceva costruire il grafo e poi fingiamo di voler fare la visita a partire da una certa stazione adesso purtroppo non abbiamo l'interfaccia utente per farci scegliere la stazione quindi la dovremmo impostare a forza nel codice vabbè quindi noi avevamo il nostro test model che faceva creare il grafo e adesso possiamo provare a far costruire una lista di fermate prendendo chiedendo al modello di darmi lista di fermata m lista di fermata chiamiamo così raggiungibili uguale model punto fermate raggiungibili da una certa fermata di partenza p adesso dobbiamo fare un pochino di lavoro per calcolare questa p perché ci serve un oggetto allora gli importa la lista ci serve un oggetto che rappresenta il vertice di partenza e poi semplicemente lo stampo posso out punto print line raggiungibili o magari posso iterare stampare una per riga forse sarebbe meglio ma l'estetica la sistemiamo dopo allora qui ho bisogno di trovare una fermata di partenza e mi serve non il nome ma l'oggetto che corrisponde a questa fermata ok quindi potrei magari aggiungere al model un altro metodo visto che l'elenco delle fermate ce l'ho ce l'ho nel grafo nei vertici del grafo io potrei creare un metodo ricordate che le fermate le ho ottenute dal DAO qua sotto forma di lista questa lista mi è servita per popolare i vertici del grafo poi questa lista l'ho dimenticata non mi serviva adesso io posso fare due cose posso va bene nel senso che non mi serve più questa lista quando volessi ottenere l'elenco delle fermate basta semplicemente che io vada dal grafo e gli chieda senti caro grafo dimmi quali sono i tuoi vertici grafo.vertexset mi dà tutti i vertici quindi potremmo aggiungere un metodino molto semplice che mi dà l'oggetto fermata dato il nome della fermata così nel main possiamo usarlo public fermata trova fermata e gli passo un nome ok allora questo qua cosa fa è un metodo che semplicemente va a cercare nel senso di vertici qual è quello che ha quel nome e lo restituisce quindi iteriamo sulle fermate f che fanno parte dei vertici del grafo dis.grapho .vertexset e per ciascuno vado a vedere se se f punto get nome è uguale equals al nome che stavo cercando se si allora f è l'oggetto fermata che ha quel nome che mi serviva altrimenti return null semplicissimo scandisco una collection per cercare un elemento ok operazione che ovviamente ha complessità odn proporzionale al numero di vertici se la faccio una volta sola due volte non è un problema se mi accorgessi che questa operazione la dovessi fare molte volte allora mi verrebbe da aggiungere una mappa che dato il nome della stazione mi restituisca direttamente l'oggetto fermata e così riesco a ottenere questo trova fermata in un tempo costante ok l'importante è che io abbia aggiunto questo metodo trova fermata l'ho implementato nel modo più semplice semplicemente con un ciclo se mi accorgessi che questo metodo dal punto di vista delle prestazioni diventa pesante allora so già cosa fare sostituisco la lista o la navigazione dell'insieme con una mappa che costruirò quando e costruisco quando leggo il grafo quindi quando ho questa lista creo immediatamente la mappa in cui ci metto queste fermate indicizzata per stringa così qua dentro questa trova fermata diventa semplicemente mappa.get del nome e vado molto più veloce però ha senso fare questo lavoro extra solo se effettivamente ne vale la pena cioè se chiamo questo metodo se viene chiamato molte volte e se mi accordo che è il metodo che rallenta di più il programma se no non vale la pena allora tornando a test model quindi a questo punto è facile prendere la fermata di partenza chiedendo direttamente al grafo senti al model anzi trovo una fermata che si chiama qual era il nostro esempio la force va bene ok speriamo che non sia null if controlliamo solo p uguale uguale null system.out.println fermata non trovata altrimenti facciamo il lavoretto che dobbiamo fare ok non mi ricordo mai qual è il tasto per riformattare il testo ok vediamo un po' se funziona m.trova fermata is undefined for model perché non ho ancora salvato il model direi si vado qua salva ok adesso ti piace rifacciamo run ecco qua cosa mi stampa mi stampa grafo creato con 619 vertici 715 archi è una stampa che c'era dentro il model subito dopo la creazione del grafo e questa stampa qua invece è questa stampa della linea 17 e cosa mi stampa mi stampa una lista che in questo caso noi sappiamo potremmo controllare ma sappiamo già che ha 619 elementi perché questo grafo è un grafo connesso dove il primo è la sorgente poi ci sono Gaimocchè Brochand Place de Clichy andiamo un po' a vedere se ci quadra dov'era la Fouche guardate come adiacenti a Brochand Gaimocchè che è qua l'adiacente Brochand che è qua e Place de Clichy che è qua sotto quindi in realtà questi tre sono i tre adiacenti di livello 1 abbiamo fatto una visita in ampiezza ok e quindi prima troviamo gli adiacenti della del sorgente poi avremo gli adiacenti di livello 2 quindi sono i vertici che sono adiacenti a questi tre che sono evidenziati Port de Saint-Wen dove cavolo è eccolo qua è l'adiacente di Guimocchè quindi lui ha preso il primo Guimocchè che è il primo degli adiacenti di livello 1 e vi si è chiesto quali sono i suoi adiacenti Port de Saint-Wen che è qua poi non ci sono altri adiacenti di Gaimocchè allora ha passato al secondo elemento di livello 1 che era Brochand l'ha trovato in quest'ordine e quindi avrà aggiunto il secondo elemento di livello 2 che era Port de Clichy eccola qua poi non c'erano altri adiacenti Brochand ha preso invece Plus de Clichy che aveva degli adiacenti che sono tre in teoria Rome, Liege e Blanche eccoli qua Liege, Rome e Blanche quindi questi sono costituiscono il livello 2 della mia mappa ok? il livello 2 della mia mappa questo è il livello 0 questo è il livello 1 questo è il livello 3 e questi altri erano il livello 2 poi ovviamente l'algoritmo è andato avanti è partito da ciascun elemento del livello 2 per trovare gli elementi di livello 3 quindi da Port de Saint-Wen che era qua ha trovato Garibaldi da Port de Clichy avrà trovato Meri de Clichy adesso qua più avanti ops perdon e così via adesso qua ovviamente la cosa si diventa un po' complicata seguirla in modo lineare no? però ha applicato l'algoritmo della visita in ampiezza e mi ha restituito la lista no? di tutti in questo caso una lista di tutti i vertici che che sono raggiungibili a partire da questa fermata di partenza nell'ordine con cui la visita in ampiezza trova gli elementi se io avessi implementato nel model una visita in profondità anziché una visita in ampiezza e questo era semplice perché bastava usare il depth first iterator anziché il breadth first iterator e tutto il resto era uguale quindi fermata default edge questo caso lo chiamo dfv depth first visit uguale new depth first iterator no? cosa sto facendo? depth permoli depth first iterator this.graph onore di partenza punto virgola quindi io provo a modificare un attimo questo codice inserendo la visita in profondità anziché la visita in ampiezza tanto per vedere che differenza c'è e quindi qui anziché bfv avrò dfv vabbè non cambia nulla quindi vedete ho solamente creato un iteratore diverso ho cambiato il tipo di iteratore e poi l'altare l'algoritmo è esattamente identico così vediamo cosa sarebbe successo con una visita in profondità ok qui c'è rosso perché ah c'è questa cosa qua che non c'entra niente perché ho sbagliato importare una classe a caso ok quindi riproviamo col test model lo eseguiamo e a questo punto mi dovrebbe dare l'elenco dei vertici adiacenti secondo la visita in profondità il primo è sempre lui la nostra sorgente ovviamente il secondo è adiacente alla sorgente place de cliché però si vede che già dal terzo blanche non è più adiacente alla sorgente ma è adiacente al place de cliché e poi da blanche va a pigal e poi da pigal va a anver che è qui da anver va a barbe barbe da barbe va a garde du nord che è qua cioè ci sta allontanando saint denis saint denis dov'è la garde du nord dovrebbe essere sicuramente adiacente alla garde du nord eccola qua questa stazione usando questa linea verde e così via e quindi si allontana rapidamente cercando da ogni stazione di arrivare a quelle successive ma ovviamente non si dimentica lui è partito da qua e è andato da questa direzione però se ricercassi il nostro caro Brochang c'è da qualche parte molto più avanti c'è anche Brochang nel senso che poi a un certo punto lo ritrova magari non lo ritrova questo Brochang come adiacente di Lafourche che è la sorgente lo troverà come adiacente eccolo lo vediamo di Port de Clichy c'è arrivato da un'altra parte ha fatto tutto un giro e poi casualmente è tornato su Brochang però questo diciamo così è il lavoro normale che fa la ricorsione quindi alla fine avremo gli stessi vertici in un ordine invece molto diverso in un ordine radicalmente diverso però in questo caso se noi controlliamo la dimensione di questa lista e la confrontiamo con il numero di vertici scopriremo che il grafo è un grafo connesso totalmente connesso perché tutti i vertici sono raggiungibili ok adesso sappiamo fila fin qui va bene sappiamo rimetto solo per comodità rimetto il literatore in ampiezza perché mi piace di più ok e magari facciamo un breve commit di questo codice ok così lo fissiamo qui abbiamo avevo creato un branch che si chiama percorsi proprio per salvare il lavoro che facciamo oggi che giochiamo sui percorsi salviamo lo chiamiamo visita in ampiezza e profondità ok sempre sul progetto di metro peris della volta prossima della volta scorsa semplicemente in un branch separato ok allora adesso sappiamo quali sono i vertici le stazioni le fermate della metropolitana raggiungibili a partire da quella che abbiamo scelto ma non conosciamo ancora quali sono i percorsi come faccio a conoscere quali sono i percorsi immaginiamo che ci troviamo in questa stazione di Lafourche che ormai è diventata la nostra amica e vogliamo andare che ne so qua sotto Gran Boulevard una a caso qual è io so che è raggiungibile perché se vado a controllare la lista me la trovo ma chi è che mi dice qual è il percorso che devo compiere ecco per farlo semplicemente dovrei usare l'albero di visita devo dire ma si è quello che abbiamo visto detto prima a parole poi però dobbiamo riuscire a farlo davvero da Gran Boulevard mi chiedo come l'ho scoperta qual è l'arco che porta a Gran Boulevard che fa parte dell'albero di visita come faccio a saperlo l'iteratore in quanto iteratore non me lo dice questo l'iteratore semplicemente mi dà l'elenco dei vertici in un certo ordine quando noi abbiamo detto ah questi sono i vertici di livello 3 perché sono stati raggiunti da quelli di livello 2 siamo andati noi a cercare di immaginarci nella nostra mente che cosa avesse fatto l'iteratore per scoprire questi vertici ma quell'informazione nella lista finale non c'è più come faccio a recuperare quell'informazione allora c'è un meccanismo che ci offre la libreria JGraph T attraverso questi iteratori di andare a farci dire dall'iteratore che cosa ha scoperto l'iteratore man mano che lavora genera degli eventi è lo stesso concetto dell'interfaccia utente fa delle cose genera degli eventi io se sono interessato alcuni di questi eventi li posso andare a intercettare li posso andare a intercettare definendo un oggetto di tipo traversal listener che è scritto qua questo oggetto traversal listener che cosa fa? contiene dei metodi che vengono chiamati ogni volta che succede qualcosa ogni volta che ho attraversato un arco ogni volta che ho trovato un vertice ogni volta che ho terminato la visita di un vertice e così via ok? quindi sceglierò io quali metodi andare a implementare per andare a intercettare il tipo di informazioni che serve a me e poi lo uso così come mi piace allora io cosa voglio fare qua? voglio ricordarmi quando scopro un vertice da dove proveniva allora questo lo posso fare andando a intercettare l'operazione di attraversamento di un nuovo vertice e cosa faccio? ebbè quello che posso fare è dato un certo vertice vi ricordarmi che lui è stato scoperto da un certo v con 0 il suo predecessore quindi in realtà mi ricordo per ogni vertice chi mi ha scoperto da chi sono stato scoperto questa operazione che è data da un vertice mi dice il vertice da cui è stato scoperto e posso diciamo così memorizzarla in una mappa vertice vertice che da ogni vertice mi dice da chi sono stato scoperto questa mappa di fatto mi va a codificare l'albero di visita inverso perché dai vertici scoperti punto al vertici padri e quindi è un albero però che punta dalle radici verso sull'ate dalle foglie verso la radice ok dal basso verso l'alto dove l'ultimo sarà la sorgente c'è un po' di lavoro da fare ma si può fare cioè quello che vogliamo fare è di andare a arricchire le nostre fermate raggiungibili in modo da far sì che non solo mi dà la lista di fermate e questo l'abbiamo già visto ce lo fa facilmente ma mi dice anche si ricorda anche qual è si costruisce l'albero di visita l'albero di visita lo può memorizzare appunto in una mappa che data ogni vertice tra quelli che ho raggiunto mi dice qual era il vertice da cui l'ho raggiunto questa mappa la memorizziamo sempre dentro il model la costruiamo dentro fermate raggiungibili e poi facciamo in modo che si possa interrogare ok allora facciamo i primi passi per costruire questo qui noi costruiremo una mappa lo aggiungo qua tra le variabili del model una mappa da fermata a fermata che chiamo predecessore chiamiamo predecessore basta ok java.util.map quindi in pratica io se chiedo fatemi eseguire di nuovo il test model se chiedo predecessore di Lafourche dovrò ottenere null non ha nessun predecessore perché se lo radice se chiedo predecessore di Guy Mocquet mi dovrà dare Lafourche se chiedo predecessore di Brochan mi deve dare Lafourche se chiedo predecessore di Porte Santuang mi deve dare Guy Mocquet qui sono ritornato alla visita in ampiezza perché è quella che riusciamo a capire più facilmente quindi mentre l'iteratore va avanti io devo intercettare le sue operazioni e mi salvo queste operazioni in questa mappa ogni volta che scopro un vertice questo aggiungo un elemento alla mappa che come chiave ha l'elemento scoperto e come valore ha l'elemento da cui è stato scoperto adesso come codice cerchiamo di capire come farlo ok allora rispondo solo con un paio di domande Lorenzo mi dice non mi è chiaro che legame c'è tra la visita e l'iteratore semplicemente l'iteratore è un trucco che ha usato diciamo così una tecnica che ha usato l'implementatore il costruttore dell'ibrillia per dire come faccio a farti vedere l'operazione di visita beh l'operazione di visita parte da un vertice sorgente e trova tanti altri vertici anziché crearmi un oggetto che ha dei metodi strani mi ha creato un metodo che ha degli oggetti next e as next che sono i stessi metodi che avrebbe un normalissimo iteratore su una lista ok quindi l'algoritmo internamente lavora prendendo un vertice noi ci immaginiamo un algoritmo che gira calcola tutto e ci dà il risultato totale completo invece questo funziona in un modo leggermente diverso questo algoritmo io lo inizializzo gli dico senti questo è il grafo questo è il punto di partenza e poi ogni volta che chiamo un metodo lui mi dà un pezzettino del risultato quindi non ho un metodo dell'iteratore che mi dice dammi tutti quelli raggiungibili ho un metodo che mi dice dammene un altro dammene un altro ancora dammene un altro ancora e lui me ne darà ovviamente finché ne trova e ogni volta lui fa un passettino dell'algoritmo se a me servono tutto insieme io devo fare in modo che l'iteratore uno dopo l'altro col metodo next mi dia i vari vertici e me li salvo da qualche parte perché lui va avanti uno per volta ok? quindi un po' come quando leggiamo dei dati di una tabella del database nel DAO in cui ogni volta che chiamo next mi dà la prossima riga e se mi serve il dato di quella riga me lo devo salvare da un'altra parte me lo devo salvare da qualche parte ok? next mi dice dammi il prossimo risultato quello che tu dici hai ancora risultati è as next è il metodo as next quindi as next gli chiede hai ancora risultati da darmi? sì o no e lui ritorna vero o falso se lui ritorna vero e solo se lui ritorna vero posso chiamare il metodo next che a questo punto mi dà il risultato che sono sicuro che ci sia perché as next mi è ritornato vero ok? la seconda domanda era di dunque dove era qua di Mario che mi diceva ma non conviene a questo punto mi stava commentando il fatto che io volevo creare una mappa e lui mi dice ma se devi fare sto casino con la mappa a questo punto non puoi creare direttamente un altro grafo che contenga gli stessi archi della mappa sì è un altro modo è un altro modo anziché anziché una mappa potrei creare un grafo un grafo che conterrà i vertici raggiungibili e gli archi che sono stati utilizzati sì in realtà non cambia molto nel senso che vedremo che la difficoltà non è tanto salvarlo a qualche parte ma è soprattutto riuscire a intercettare questa coppia di vertici ok quindi va benissimo una mappa va benissimo anche un grafo come struttura dati in cui salvare questo albero di visita infatti giustamente Mario ragiona dicendo ma se mi stai parlando è un'ora che mi stai parlando di un albero di visita e mi hai detto che un albero è un tipo di grafo perché non memorizziamo l'albero di visita dentro un grafo sicuramente si può assolutamente questo diciamo così è un pezzo questa mappa sarebbe un pezzo dell'insieme degli archi tra l'altro limitato a poterli navigare solamente in un verso perché in questo momento qua mi serviva solamente questo mi servisse altro fare altre operazioni sull'albero di visita sicuramente converrebbe salvare in un grafo ok tra un attimo facciamo pausa io prima di fare la pausa vorrei solo riuscire a creare l'oggetto iteratore per commentare insieme a voi una parte della sintassi e poi dopo invece l'implementazione la finiamo con calma quando ci siamo un attimo ripresi dall'intervallo noi abbiamo questo giusto per vedere cos'è questo attraversare l'isterner questo attraversare l'isterner è un metodo della classe iteratore quindi io creo l'iteratore e poi gli dico senti caro iteratore adesso quando tu andrai ad attraversare il grafo informami quando succedono certe cose quindi io ho creato l'iteratore prima di fare altro aggiungo questo attraversare il listener quindi farò bfv che è il mio iteratore punto ad attraversare il listener aggiungo associo un listener un gestore degli eventi al bfv al literatore cosa gli devo passare come parametro gli devo passare un oggetto di tipo attraversare il listener lui vuole un oggetto di tipo attraversare il listener c'è scritto qua attraversare il listener che cos'è? è un'interfaccia quindi magari andiamo a vedere nel javadoc add attraversare il listener c'è richiede un metodo di tipo attraversare il listener un oggetto scusate un parametro di tipo attraversare il listener questo attraversare il listener è un'interfaccia perché non può essere una classe perché lui non può sapere quale tipo di operazioni vorrò fare lui mi dice senti implementami un po' quando definiamo un comparatore dammi un comparatore qualcosa che implementi un qualunque oggetto che implementi questi quattro metodi connect component finished connect component started edge traversed vertex finished verso traversed ok a noi interessa vertex traversed ma in realtà questi metodi li devo implementare tutti mi interessa vertex traversed perché mi dice che questo metodo verrà chiamato dall'iteratore automaticamente quindi un listener ha dei metodi che non chiamo io mi vengono chiamati quando certi eventi capitano viene chiamato quando viene visitato un vertice quindi quando viene scoperto quando viene trovato un vertice e avrà come parametro un oggetto di tipo vertex traversal event e questo vertex traversal event andiamo a vedere come è fatto è un metodo che ha dove sono i suoi metodi un get vertex che mi dice quali sono il vertice che è stato in questo momento scoperto è un po' povero come 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 oggetto perché purtroppo mi da solamente qual è il vertice che ha scoperto e noi dovremmo sapere anche da quale vertice è stato scoperto ci complicheremo un po' la vita ok allora prima come dicevo occupiamoci della sintassi per creare questo listener poi pensiamo che cosa farci dentro quindi abbiamo questo attraverso il listener in cui dobbiamo mettere il riferimento di un oggetto che implementa quell'interfaccia allora non so se l'avete già fatto ma è possibile noi dovremmo creare un nuovo oggetto una nuova classe in un altro file che implementi questa interfaccia un oggetto qualunque listener per la visita in ampiezza ad esempio che implementa questa interfaccia c'è una scorciatoia che è quella di definire l'oggetto in line quindi qua posso scrivere new con nome dell'interfaccia traversal listener che è una cosa un po' strana perché allora aspetta vado piano io faccio new traversal listener traversal listener non è una classe non è un'interfaccia in java quando io faccio new di un'interfaccia sto di fatto creando una classe anonima senza nessun nome che implementa quell'interfaccia e questa classe viene creata solo lì e viene subito creato un oggetto istanza di quella classe ovviamente per poter definire una classe dovrò definire i suoi metodi perché se no quella classe cosa fa? allora qui ho una scorciatoia sto facendo new di un'interfaccia è una scorciatoia che corrisponde a dire definisco una classe anonima che implementa quell'interfaccia e creo un oggetto di quella classe mi evita di aver aprire un altro file e creare un'altra interfaccia un altro file e un'altra classe eccetera eccetera quando ci clicco sopra ok sto creando quindi questa scorciatoia dice ok creami una classe che implementa questa interfaccia con questi parametri perché sono stati ereditati dalla definizione di bfv e poi eclips mi ha messo un paio di parentesi graffe per dire sì va bene io ti creo una classe però adesso tu però qua mi metti dentro i metodi che questa classe servono per lavorare perché la classe la devo definire da qualche parte io non posso creare un oggetto a partire da un'interfaccia devo creare un oggetto a partire da una classe io ti evito di dover creare un altro file però ti faccio creare una classe inline direttamente nel codice e tu me la crei qua dentro quindi dentro queste parentesi graffe ci devo mettere l'implementazione dei metodi richiesti dall'interfaccia infatti questa interfaccia è rossa perché lui mi dice guarda che questo tipo attraverso l'isternare deve implementare una serie di metodi per fortuna eclips ci viene in aiuto e se io clicco aggiungi metodi da implementare qua lui mi aggiunge appunto questi metodi che cosa ha fatto mi ha aggiunto i metodi vuoti richiesti dall'interfaccia attraverso l'isternare connected component finished connected component started add traversed versed traversed eccetera eccetera tutti chiaramente con implementazione vuota di questi molti mi va bene che siano vuoti non mi interessano quindi questo lo tolgo questo lo tolgo trovo anche questo to do così non mi trovo questo mentre invece versed traversed è quello che mi serve quindi io qui dentro adesso andrò a scrivere del codice che verrà richiamato automaticamente ogni volta che durante lo sviluppo del literatore quindi questo io definisco qui a riga 99 il codice che voglio che venga eseguito e questo codice verrà eseguito più avanti diciamo così alla riga 114 quando chiamando next l'iteratore scopre un nuovo vertice quindi l'iteratore fa delle cose a un certo punto scopre un nuovo vertice e quindi chiamerà il metodo versed traversed perché a questo iteratore abbiamo aggiunto un listener un ascoltatore dei suoi eventi ecco dal punto di vista della sintassi è una cosa un po' strana perché abbiamo detto new interfaccia aperta graffa dell'implementazione in line della classe chiusa graffa tutto questo da qui dalla new ops cosa ho fatto mi sono addormentato sulla z anziché fare ctrl z dall'inizio della new a questa chiusa graffa qua in fondo questo è un unico oggetto come avessi chiamato un oggetto p questo oggetto è stato creato lo sto creando adesso perché ho fatto new a partire da una classe che non ha un nome ma è una classe che implementa questa interfaccia e di cui ti sto dicendo io adesso qua dentro come sono fatti questi metodi quindi una cosa un po' strana perché dentro un'espressione qui siamo dentro una parente di tonda questa è un'espressione normale io potrei mettere una serie di parametri degli oggetti eccetera al posto di uno di questi oggetti ci apro direttamente la definizione di una classe e dentro la definizione di una classe ci sono la definizione dei metodi e dentro la definizione dei metodi ci avrò delle altre istruzioni tutto questo ha l'effetto di creare semplicemente un oggetto da passare come parametro avrei potuto farlo in un file separato però ho colto l'occasione per vedere insieme a voi come si può creare questo anche direttamente in line è la stessa cosa che magari l'avete fatta quando definivate in line un comparatore una classe comparable per l'operazione di sort per non dover farsi la classe comparator la potevi fare in line questo è un pochino più complicato ovviamente perché la classe ha diversi eventi e viene chiamata in un contesto un po' strano però il meccanismo è lo stesso non perdiamoci semplicemente tra questa parentesi tonda che chiude qua i parametri di ad listener e tutte altre queste parentesi graffe queste parentesi tonda eccetera che fanno parte semplicemente della definizione di questa classe io per dichiarare questi metodi mi chiede Enrico come ho fatto a farli comparire e li ha fatti comparire Eclipse adesso lo rifacciamo magari li cancello se li cancello Eclipse qua mi mi segna errore perché mi dice guarda che tu hai implementato un'interfaccia una classe che implementa un'interfaccia ma non mi hai detto quali sono i metodi e c'è questo se andate sopra col mouse dovrebbe farvi comparire questa finestrella che dice aggiungi i metodi non ancora implementati se clicchi sopra li compila ok allora come dicevo è una cosa un po' strana ma soprattutto dal punto di vista della sintassi però adesso siamo pronti diciamo così a implementare poi il codice che ci serve per ricordarci per ricostruirci questo albero di visita a partire dal dal letteratore stesso dal lavoro che il letteratore sta facendo io farei a questo punto una pausa perché poi andiamo a implementare questo codice e andiamo diciamo così a crearci un metodo che vada a fare appunto la scoperta di questo cammino minimo quindi mi sembra buono a questo punto fermarci sono le 10 e 10 magari ci ritroviamo alle 10 e 25 se volete io faccio commit di questa parte sapendo che ovviamente è incompleto però non fa ancora nulla perché aggiunge un listener che non esegue nulla ok però è il primo passo anzi quello che possiamo fare ecco datemi ancora 10 secondi prima di fermarci facciamo una cosa del genere system.out punto print line e punto get vertex così vediamo se viene chiamato ho aggiunto questa qui che mi stampa il nome del vertice quando viene chiamato l'event handler proviamo solo a fare un run ecco qua vediamo che nella console ha stampato proprio nell'ordine in cui ci aspettavamo i vari i vari vertici beh stampare non ci serve a nulla perché in realtà già li sapevamo ma il fatto è che li stiamo stampando nel momento in cui li abbiamo scoperti e questo ci può servire per capire per scoprire come li abbiamo scoperti ok quindi questo qua dimostra che il metodo è quello giusto l'abbiamo inserito nel modo giusto e viene chiamato nel momento giusto cosa gli facciamo fare ce ne occupiamo tra un quarto d'ora e quindi verso 10.25 nel fracempo faccio commit di questo così almeno possiamo provarlo e verificare che questo venga stampato correttamente ok allora ci prendiamo un po' di pausa riprendiamo alle 10.25 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti